Preparando la Tosca di là, abbiamo il piacere di avere Fabio De Benedetto, una new entry nel mondo della lirica italiana. E Fabio, come ti senti alla prima, alla tua prima? Beh, veramente mi sento molto emozionato per questo primo debutto in Tosca. Che ruolo avrai nell'opera? Faccio il ruolo di Spoletta. Beh, che ne pensi di Spoletta? Beh, veramente, come ho detto prima, sono veramente emozionato. Spoletta è veramente un personaggio molto interessante per quanto riguarda il ruolo di comprimario d'opera. Perfetto. E poi ti sei preparato per questo momento? Sì, sì, molto preparato. Ho studiato le parti, anche le parti degli altri cantanti, per vedere anche le parti dove poter entrare a tempo. Quindi ho fatto un lavoro a casa anche di studio. Hai fatto molta scuola anche, no? Sì, sì, anche molta scuola. Beh, parlaci un po' della tua scuola, dei tuoi inizi, quando hai incominciato a studiare. Io ho incominciato a studiare all'età di 17 anni, scoprendo per caso il mio dono, diciamo, il mio talento per l'opera lirica. E poi dopo, man mano è andata crescendo questa passione e ho voluto studiare, sempre con più passione di prima, fino a che ho avuto questi primi risultati. Cioè oggi debutto appunto in Tosca. E adesso quanti ne hai? Quanti anni? Adesso ho quasi 25, cioè 24. Ok, ecco. Noi ti auguriamo una carriera incredibilmente bella per il bene della lirica italiana nel mondo. Grazie, grazie. Ciao, ciao.